Il ragionamento che faceva il Marco Lorenzini rispetto ai nuovi lavori collegati ad un'economia di tipo economia verde che chiaramente possono essere anche di contributo per l'argomento che arriverà successivamente. Io chiedo anche qui su questo tema se ci sono contributi vostri, interventi in modo tale che possiamo allargare la discussione.